Devo dire anche con grande sincerità che siamo di fronte, come del tutto evidente, ad un'aggressione mediatica alla Campania. C'è gente che cerca di nascondere i propri limiti o i propri errori appendendosi alla Campania. Ce lo aspettavamo, sapevamo che sarebbe stato così. Nessun problema. Ho detto ai nostri dirigenti che non vi fate distrarre dalle stupidaggini. Pensate a lavorare e ad affrontare i problemi che sono seri. Noi abbiamo 671 posti letto destinati al Covid. Sono occupati poco più di 520-530 posti. Quindi abbiamo ad oggi 141 posti liberi Covid. Quando fra tre settimane saranno occupati, diremo che sono occupati. Ad oggi vi sono 150 posti letto liberi destinati al Covid. Per quanto riguarda le terapie intensive, abbiamo 100 posti letto di terapia intensiva attivi ad oggi. Abbiamo 52 ricoveri, quindi abbiamo in pratica la metà dei posti letto disponibili di terapia intensiva. Ad oggi. Poi vediamo nelle prossime settimane. Ma ad oggi il quadro è questo. Siamo la prima regione d'Italia che è partita con la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Questa informazione non l'ha data nessuno. Ma non fa niente. L'importante è che ci siano i risultati. Allora, noi stiamo completando la cosiddetta fase C che avevamo messo in programmazione con le nostre strutture, cioè una fase adeguata ad un livello di contagio medio-alto. Questa fase C in pratica si è esaurita con i posti letto che avevamo programmato, con i ricoveri che avevamo programmato, con le terapie intensive che avevamo programmato. Adesso entriamo nella fase D, cioè quella del contagio elevato o elevatissimo. Perché se arrivi ad avere 750 contagi al giorno, beh, è chiaro che il quadro cambia. Qual è l'obiettivo a cui stiamo puntando e dobbiamo puntare in Italia? L'obiettivo dovrebbe essere questo, avere più o meno un equilibrio fra i nuovi contagi e le persone dichiarate guarite. Non un'equivalenza perfetta, 700 contagi, 700 guariti, ma perlomeno una situazione gestibile. 700 contagi, 500, 600 guariti. Fino a che regge questo equilibrio la situazione diventa gestibile. Se questo equilibrio salta, cioè se dovessimo avere 1.000 contagi e 200 guariti, è lockdown. Chiaro? Maria D'Alecci capiamo.